Buongiorno a tutti. Abbiamo terminato l'incontro del Presidente del Consiglio con la delegazione del Lanci, con il Presidente Fassino, che ringraziamo. L'incontro ha analizzato i vari problemi posti dal Lanci in relazione alla legge di stabilità. Il Presidente del Consiglio ha ribadito alcune questioni. La prima è che riteniamo che il contributo che viene richiesto ai comuni sia un contributo proporzionale e sopportabile alla riforma complessiva del bilancio dello Stato, quindi all'erogazione di maggiori opportunità per le imprese e per le famiglie, visto che distribuiamo in termini di riduzione di tasse oltre 18 miliardi. Quindi, a fronte di questo sforzo complessivo, dell'impianto complessivo di una manovra fortemente riformista che accompagna molto i redditi delle famiglie e delle imprese, riteniamo che questa manovra richieda uno sforzo da parte dei comuni sopportabile. Abbiamo ribadito però che siccome vi erano preoccupazioni anche in merito ad altre questioni che storicamente sono state poste dal sistema dei comuni, tipo per esempio l'autonomia organizzativa e l'autonomia fiscale, abbiamo garantito che si raggiungeranno questi obiettivi di autonomia organizzativa, cioè di completa libertà dei comuni, delle modalità con cui raggiungono questi saldi e dell'autonomia fiscale, cioè di un'unica tassa che comprenda tutte le tasse comunali e che dia completa autonomia fiscale dei comuni, abbiamo garantito che questi due obiettivi verranno sicuramente raggiunti entro la stesura finale della legge di stabilità. Poiché vi sono notevoli divergenze di calcolo diciamo così sull'impatto della manovra, si è deciso in tempi rapidissimi di istituire un tavolo tecnico di approfondimento, abbiamo dato piena disponibilità, abbiamo dato piena disponibilità a fare in modo che questo tavolo tecnico sia immediatamente operativo e che già all'inizio della settimana prossima vi sia un nuovo incontro diciamo di approfondimento tecnico politico in maniera a dare risposte pronte ai comuni e evitare appunto inutili preoccupazioni per coloro che amministrano la nostra comunità e a cui ci sentiamo ovviamente molto vicini. Questo è l'esito dell'incontro, quindi darei la parola al Presidente Fassino. Va bene, io ringrazio il Sottosegretario Del Rio, ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio, il Sottosegretario del Governo che ha accolto la nostra richiesta di incontro oggi. Noi abbiamo chiesto di incontrare il Governo perché abbiamo una seria preoccupazione sugli impatti sui bilanci dei comuni che ha la legge di stabilità. La rappresentazione mediatica che fin qui è stata data è che la riduzione di spesa sia articolata per 6 miliardi su amministrazione statale, per 4 sulle regioni, per 1 su città metropolitane e province e per 1,2 sui comuni, compensato dall'allentamento del patto di stabilità. La lettura dell'intera legge di stabilità dice che l'impatto sui comuni è notevolmente superiore al miliardo e 2 che viene dichiarato, perché il miliardo e 2 è la riduzione di spesa che ci viene richiesta, a cui vanno aggiunti altre 300 milioni di riduzione di spesa sull'esercizio 2015 che derivano da provvedimenti del 2013 e del 2014. E quindi da 1 e 2 la riduzione di spesa che ci viene richiesta diventa 1 e mezzo. Poi la legge di stabilità prevede la istituzione di un fondo per i crediti di difficile esigibilità che debba essere inserito in parte corrente e significa ridurre ulteriormente le risorse per la spesa, perché se una parte delle risorse di cui io dispongo per la spesa corrente devono essere congelate in un fondo per crediti di edificio di esigibilità la parte spendibile davvero si riduce significativamente. Di più inserendo il fondo nella parte corrente influisce anche sulla dinamica del patto di stabilità e restringendo ulteriormente gli spazi di patto di stabilità che potevano essere utilizzati. Quindi noi diciamo le valutazioni che abbiamo fatto e che hanno fatto i nostri esperti, in particolare le analisi che ha fatto l'IFEL, dicono che il contributo che viene richiesto ai comuni è abbondantemente superiore al miliardo e 2 di riduzione di spesa che ci viene chiesto. E quindi è un onere che impatta in modo molto più significativo e che apre problemi di sostenibilità. Io ho ribadito naturalmente che i comuni sono assolutamente consapevoli che lo sforzo che si sta facendo per far uscire il Paese dalla stagnazione e rimetterlo in movimento richiede assunzione di responsabilità di tutti anche da parte dei comuni. Ho ricordato peraltro che tra il 2010 e 2014 i comuni hanno contribuito al risanamento della finanza pubblica con oltre 17 miliardi di euro, 8 miliardi di tagli sui trasferimenti e 9 miliardi dal contributo di patto di stabilità. Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità come non ci siamo mai sottratti. Chiediamo che l'assunzione di responsabilità che ci viene chiesta sia sostenibile. E ci sembra di vedere che l'insieme delle misure che la legge stabilità enuncia, sia quelle già quantificate, miliardo 2 più 300, sia quelle che in legge di stabilità non sono quantificate ma che poi ogni comune nel momento in cui vengono applicate deve quantificare, portano ad un impatto particolarmente pesante sui bilanci dei comuni, riducendo significativamente la capacità di spesa corrente e di fatto vanificando anche gli spazi aperti con la riduzione del patto di stabilità sul fronte degli investimenti. Per questo abbiamo chiesto di aprire un tavolo di confronto. Come ha detto il Sottosegretario del Rio questa nostra richiesta ha rincontrato la disponibilità del Governo. Già nei prossimi giorni si riunirà un tavolo tecnico di esperti sia del Governo sia dell'Anci per confrontare le valutazioni che ciascuno di noi fa sugli impatti della manovra. Al termine di questo confronto in sede tecnica ci sarà nuovamente una riunione in sede politica tra Anci e Governo per, diciamo, sulla base del confronto che è stato fatto, tornare a valutare come gestire al meglio la legge di stabilità. Questo è, mi pare, il punto centrale. Poi noi abbiamo posto alcune altre questioni che anch'esse sono all'esame del Governo. Riteniamo che la riduzione di un miliardo su città metropolitane e province di secondo grado, anche in questo caso sia di difficile sostenibilità. Le province per le città metropolitane, perché le città metropolitane, secondo la legge del Rio, hanno, qui c'è l'autore che può confermare, vengono responsabilizzate per funzioni superiori a quelle delle province precedenti. E quindi il fatto che si vada a tagliare le risorse su città metropolitane che dovrebbero fare più cose di quelle che facevano le province precedentemente, appare a noi una contraddizione. E per quello che riguarda le province di secondo grado, hanno certamente meno funzioni di quelle che avevano le province uscenti, ma minori funzioni vanno comunque assolte. E oltre una certa misura il taglio che viene proposto rischia di mettere le province nell'impossibilità di assolvere anche le minori funzioni che gli sono state assegnate. Quindi anche questo riteniamo che debba essere rivisto. Apprezzando il fatto che per la prima volta dopo 70 anni un governo stabilisca che le spese per gli uffici giudiziari sono a carico dello Stato e non a carico dei comuni come sono dal 1941, apprezzando, però abbiamo sottolineato che nella legge di stabilità è previsto che questa novità decorra dal 1 settembre del 2015, che significa che per 8 dodicesimi di quest'anno sono ancora a carico nostro e abbiamo chiesto di verificare la possibilità che invece questa novità parte dal 1 gennaio del 2015. e abbia un'efficacia quindi sui bilanci da subito. Infine abbiamo sottolineato la esigenza che sia ripristinato in sede di conversione parlamentare il fondo per il finanziamento delle linee metropolitane delle grandi aree urbane che era previsto nel primo testo di legge di stabilità e che nel testo finale invece è stato accantonato. Questo perché riteniamo che se si vuole sostenere una politica di crescita è bene mettere i comuni nelle condizioni di concorrere lo sforzo per sostenere gli investimenti. In ogni caso su tutte queste materie adesso ci saranno gli approfondimenti tecnici e torneremo poi a valutare in sede politica. Ovviamente l'auspicio che noi facciamo è che il confronto in sede tecnica ci consenta di arrivare a delle comune visioni perché delle comune valutazioni sulle cifre possono consentire poi l'assunzione di decisioni su come gestirle. Bene, grazie. Allora ci sono domande? Sì. Prego. Per Fassino, da un miliardo e due a tre miliardi e sette queste erano le cifre che giravano ieri ma quindi ci sono già delle cifre chiare al di là degli approfondimenti dei tavoli tecnici. Come lei ha. Noi abbiamo fatto delle valutazioni che sono le valutazioni del nostro istituto, l'IFEL. La nostra valutazione è che miliardo due più 300 milioni più impatto che deriva dalle conseguenze del fondo sui crediti non esigibili, più impatto derivante dalla nuova contabilità che entrerà in funzione dal primo gennaio 2015. Questo più alcune altre misure non ve la faccio lunga in termini tecnici. Secondo noi Cuba un intervento a carico dei comuni che sta tra tre miliardi e mezzo e tre miliardi e sette. Oggi nel corso della discussione queste nostre cifre hanno riscontrato nel governo valutazioni diverse e questa è la ragione per cui abbiamo detto benissimo mettiamo gli esperti attorno a un tavolo e verifichiamo le cifre una per una. Perché siccome come diceva quel proverbio la matematica non è un'opinione, ci mettiamo intorno a tavola e vediamo se le cifre sono giuste, se ci sono interpretazioni di formi, perché, qual è la valutazione diversa che porta eventualmente a cifre di formi per cercare di arrivare a un punto di condivisione delle cifre, degli impatti. La condivisione degli impatti ci consentirà anche, io mi auguro, di condividere le misure per contenere gli impatti. Io volevo chiederle se questa cifra che voi avete quantificato, tre miliardi e sette, fosse davvero questa. Che rischi corrono i cittadini? Voi sarete costretti a fare dettagli? Cosa faranno i comuni a quel punto? Allora, una cosa per volta. Noi abbiamo detto che questo è l'impatto. Chiediamo, abbiamo chiesto al Governo di confrontarci di discutere, è evidente che noi siamo convinti che una discussione darà, diciamo, argomenti sufficienti per introdurre fattori correttivi e demandativi alla legge di stabilità, perché siamo convinti che quelle cifre sono giuste e vere. In ogni caso, proprio perché siamo convinti di questo, non abbiamo nessun timore a andare a un confronto con gli esperti del Governo. Dopodiché valuteremo a saldo qual è, a consuntivo, qual è l'esito di questo confronto e sulla base di quell'esito, ovviamente, poi faremo tutte le altre valutazioni. Una domanda per il Sottosegretario del Rio. Sono Laura Cannavo, Tgco24. Oggi sono successi dei fatti abbastanza gravi che hanno provocato anche dei feriti. Il Governo ha avuto contatti con Maurizio Landini. Landini ha chiesto delle scuse da parte del Governo. Volevo sapere anche se lei ne ha parlato con il due Presidente Renzi. Noi abbiamo seguito la vicenda da subito, quindi siamo sempre stati in contatto con il Ministro Guidi, con il Ministro Alfano e anche con i responsabili sindacali. Quindi, come abbiamo già detto, vogliamo massima trasparenza e verificheremo l'accaduto con la massima attenzione. Quindi, diciamo che in poche ore il Ministro dell'Interno ha garantito che avrà tutta la documentazione necessaria per ricostruire in maniera puntuale l'accaduto. Ovviamente sono fatti che dispiacciono a tutti.